Benvenuti a Podcast in Pillole, il podcast di Italia in Pillole. Me pare ovvio. Dove parliamo di satira geopolitica e di quello che succede nel globo terraquio? Lo so, pare un pippone ma non lo è. Fidateve. Oggi parliamo di una piaga sociale che serpeggia per internet che al confronto lo spettro atomico del comunismo era l'uomo nero che viene di notte col barcone. Sapete internet, questa discarica del disagio esistenziale che manco dentro un romanzo di Dostoevsky. Che trovi? Certi personaggi che ami e dodi perché ti rispecchiano nelle loro bassezze e nelle loro ipocrite virtù. Sono canali innocenti all'apparenza. Alcuni oserei dire pure spontanei. Niente è trash. Più o meno. Ma si sa. La psiche umana è capace di macchinazioni machiavelliche. Sta frase pare uno scioglilingua. Questi canali hanno titoli che già dovrebbero allertare le nostre sinapsi. Perché, come al solito, su YouTube, fantasia portami via. Oggi voglio parlarvi dei canali degli italiani all'estero. Li riconosci immediatamente dal titolo. Si chiamano un italiano a inserire destinazione a caso. Già uno che incentra il suo personaggio sull'essere italiano è tutto dire. Me puzza un po' de sola. Ma in fondo noi italiani siamo un popolo di santi, peccatori, navigatori e soprattutto emigranti. Non che questi espatriati qualcuno se li ripianga. Intendo quelli dei canali YouTube. Che sono la mia tipologia di canale preferito? Ebbè, che volete? C'è chi si guarda le partite di calcio. C'è chi si guarda le puntate di C'è posta per te. E io mi guardo gli italiani all'estero. Suona male detta così, lo so. Ne seguirò quasi un centinaio di questi canali. Praticamente se c'è un italiano all'estero che farà video su YouTube sul fatto di essere un italiano all'estero, io sicuramente lo seguo. Perché non avendo i soldi per viaggiare mi consolo così, sognando. Problemi? Perché in realtà questi canali che nascono per fare divulgazione, far conoscere una cultura diversa dalla nostra e tante care cose, mi fanno morire dal ridere. Lo so, sono una brutta persona. Perché, voglio dire, l'Italia è un crocevia di culture e tradizioni. E c'è bisogno di fare ventordicimila chilometri per scoprire che in Giappone usano le bacchette? Ma che davvero? No, ma io sono sconvolto. Qui sicuramente sono io che pecco di arroganza, come al solito. Ma io posso, tiè. Perché io, purtroppo, il karma ha voluto che io nascessi sia in Italia, ma al confine con la Francia. Praticamente certi giorni manco io so in che nazione sono. Quindi qualcosa sull'essere un italiano all'estero lo so. Perché anche io ho vissuto all'estero. Per esempio, in Francia hanno il vattere in una stanza, senza il lavandino, e la doccia senza il bidet, nell'altra ala della reggia di Versailles. Quindi io ho passato gli anni migliori della mia infanzia a cercare un cavolo di lavandino, perché come fai a scaccolarti le mani sporche di pupù? Che tra l'altro poi in Francia i cessi non hanno le finestre. Eh, ma si sa, all'estero sono avanti. Piccola parentesi storica. Lo sapevate che in Francia hanno smesso di usare il bidet perché le prime a capirne l'importanza igienica furono l'entraîneuse, che è un nome molto francese di dire, come dire, quelle signorine molto gentili, coloro che praticano il mestiere più antico del mondo. Dai che avete capito. Queste sex workers, come si direbbe adesso, della Francia napoleonica, scoprirono che una lavata è un'asciugata ed è come mai usata. Pertanto le nobildame parigine, che di darsi una lavata non ci avevano proprio testa, stigmatizzarono il bidet come un oggetto da bordello. Una cosa sessuale, quindi che non si doveva usare. Insomma, non avevano capito a cosa servisse il bidet. E come al solito, quando uno lancia un trend privo di basi scientifiche, tutti lo seguono e il bidet lentamente cade in disuso. Poi, col boom economico della Seconda Guerra Mondiale, gli architetti franciosi, per risparmiare spazio, iniziano a progettare bagni minuscoli dove il bidet non c'entrava manco a martellate. Comunque, tutti i francesi sanno cos'è un bidet. Ma è vero che non lo usano. Dopo questa pillola di storia degna di Alessandro Barbero, possiamo tornare all'argomento del podcast. Questi canali degli italiani all'estero sono anche interessanti. Se non fosse che il povero zio d'America, che nessuno ha obbligato ad andare a vivere in Tajikistan, passi il tempo a lamentarsi dell'acqua allunque. Eh, signora mia, perché in Italia l'acqua è più bagnata. Eh, però qui i treni arrivano in orario. Ci sono più lamentere in quei video che in coda dal dottore. Dopo anni di video su come si mangia la pizza in Nicaragua, che comunque non sarà mai buona come a Napoli, e di come contrabbandare prosciutti infilandoseli nei pertugi più inaspettati, ho iniziato a capire. A capire come mai questa gente facesse questo tipo di video. Così ho iniziato a prendere appunti. Sì, io ho degli hobby strani, lo so. Ho cercato di contattare anche alcuni di questi youtubers. Poi però nel dubbio ho detto, visto che questi hanno capito poco di dove abitano, contattiamo proprio dei nativi. Per capire come mai in Giappone stendono sui bastoni delle tende, che non è pratico. Ai giapponesi non gli piacciono le mollette, che vedevo di. Solo che se mi cade il bastone di legno massello dal balcone, faccio sette morti e otto feriti. Se mi cade la molletta, al massimo me la fotte la vicina. E i famosi standard di sicurezza dell'Europa. Tranne alcune eccezioni, sono personaggi molto semplici. Classico youtuber, che non porta chissà quali contenuti. Dopo un'attenta analisi, mi sono reso conto che molti di loro vengono dalla provincia, dall'Italia profonda. Quei paesini di provincia che vedi al telegiornale non sai neanche come si pronunciano. E la maggior parte di loro è del nord Italia. Questo non me lo so ancora spiegare. Perché la maggioranza delle persone che emigrano sono del sud Italia, quindi in proporzione dovrebbero esserci più youtuber del sud Italia. E invece no. Ma noi siamo un paese strano in fondo. Grazie al potentissimo algoritmo di YouTube che ti suggerisce delle perle rare, nel corso degli anni ho incominciato a seguire tantissimi canali di questo tipo. Sia canali famosi con milioni di iscritti, sia canali con cento, cento iscritti. Sono anche dentro qualche gruppo Telegram. Pagine Facebook. Ho passato notti insonne a fare grafici e tirare linee. Perché io sono un signore le cose e quando le faccio, le faccio bene. Perché questi canali hanno un qualcosa di sospetto? Perché parliamoci chiaro. Di solito l'espatriato l'ultima cosa che vuole avere a che fare è con degli altri italiani. Per carità. Perché l'italiano come passa la frontiera si amputa dall'albero genealogico. Peggio dei latitanti. Conosco nonnine che non sanno se il nipote è ancora vivo perché ormai vive all'estero. e calcolate che per me l'estero è dietro casa. Ma pure io ho dei parenti che non mi rivolgono la parola perché vivono all'estero. E si sono trasferiti prima che io nascessi. Cioè cosa gli ho fatto? Ce l'avete con me perché vivo in Italia ma non è colpa mia. Quindi cosa nascondono di malvagio questi canali? Ma se ci fate caso se seguite alcuni di questi canali non è tanto di come parlano del posto in cui vivono ma è molto strano di come parlano dell'Italia. Il mio amico brasiliano che è stato una volta a Venezia ed è stato insultato dall'ufficio informazioni perché gli ha parlato in inglese conosce di sicuro meglio l'Italia di questi scarti del Made in Italy. Non che a me me ne freghi qualcosa dell'Italia ma voglio capire. Ho fatto delle indagini. Mi sono letto tutti i commenti di tutti i video. Commenti scritti malissimo come al solito perché c'è qualcosa che non torna. Sarà che dopo che lavori a Monte Carlo ormai pure la Danimarca è da plebei per non parlare di Dubai che è troppo sopravvalutata secondo me. No perché io sono tutta testa tu al Miros non gliela fai eh. Io poi lo scopro cosa nascondi. Ti pensi di essere furbo ma non sei furbo. Molti di loro non riuscivano ad integrarsi nel tessuto socio-economico italiano. Come ti senti intelligente quando dici questa frase. Provate. Tessuto socio-economico il cui schizza le stelle. Quindi hanno svaliggiato il conto del papi e sono fuggiti. Però siccome all'estero per darti un lavoro vogliono magari che tu sappia la lingua che tu abbia uno sponsor lo sponsor è una persona del luogo che si assume la responsabilità penale ed economica delle tue azioni. In alcuni paesi funziona così. Quindi buona fortuna. Quindi questi italo-americani wannabe restano lì col cerino in mano. Perché all'estero è l'estero. A nessuno frega niente se sai congiuntivi e se schifi il festival di Sanremo. Spiagge. All'estero poi gli italiani sono visti come delle figure mitologiche vestite da gondoliere e sono latti lover o sono mafiosi. Spiagge l'ho già detto. ma mi stupisce che uno debba vivere in lesotto cinque anni per capirlo. Io credevo fosse una conoscenza innata. Da una gonfuzza. Ovviamente io sto sempre solo parlando di questi youtubers. Non sto parlando di tutti gli italiani all'estero che sono tutti diversi. Mi sto concentrando su questa nicchia di youtube. Perché io di italiani che vivono all'estero ne ho conosciuti. Ne vedo tutti i giorni. ma non sono così come si fanno vedere su youtube. Ve lo giuro sono delle persone normali. È proprio vero che internet non rispecchia la realtà. Tornando a questi dereliti figli del ventennio Berlusconi che una volta che hanno capito che non si può vivere di espedienti come i bohemian parigini perché all'estero in galera ci vai davvero e secondo me non volendo ammettere a loro stessi che forse dico forse se tutti ti schifavano in patria eppure i pietre te piavano per culo forse il problema sei tu ma forse perché è assolutamente vero che l'Italia non è un posto facile da vivere specialmente se non ti chiami Giorgia non sei una madre non sei cristiana su questo siamo tutti d'accordo però io fossi in questi youtuber due domande prima di fare passaporto me le sarei fatte per il non ci sa mai ed è a questo punto che ho raggiunto l'epifania e tutte le scelte che avevo fatto nella vita finalmente erano messe in fila ed avevano un senso sì ma anche meno vero perché questi furboni sono quasi tutte guide turistiche che ve l'avevo detto si reinventano guide turistiche di un paese che non conoscono per degli italiani che ne sanno meno di loro andiamo bene andiamo proprio bene questi canali hanno una parabola molto simile iniziano con lo youtuber che ancora in patria e sogna di andare all'estero facendo psicodrammi degni del gfvip di quanto sia brutta l'italia dove la gente muore di fame le strade hanno le buche il governo è corrotto e quando piove si allaga tutto e quando vai a comprare il burro al supermercato poi compri tutto tranne che il burro non si può vivere in un paese così mentre in culonia i soldi piovono dal cielo e non c'è criminalità e la gente spara l'agilaser dei capezzoli mentre noi italiani ancora al medioevo non è giusto perché non siamo nati in culonia questa fase del canale dura un annetto poi rompono talmente tanto le balle ai parenti che questi per levarseli di torno li spedirebbero volentieri pure in un gulag del kazakhistan qui parte la seconda fase del canale quella che io chiamo qui è tutto diverso quindi migliore che io trovo la fase più noiosa di questi canali video su video di cose che non hanno senso in Giappone hanno le porte in realtà non ce l'hanno perché c'hanno le porte scorrevoli cioè ragazzi i lituani hanno le lampadine ma quanto sono avanti i lituani ma lo sapete che in Messico il cielo è blu ma non blu come in Italia che in Italia fa schifo pure il cielo un blu più blu questo è il tenore dei video proprio non è che sono io che sto esagerando è proprio così poi ovviamente ogni canale deve fare il video sul fatto che nel paese X non hanno il bidet se tu non hai fatto un video dove ti lamenti del fatto che nel paese in cui abiti non hanno il bidet non sei uno youtuber all'estero youtube proprio ti blocca la monetizzazione se non fai un video sul fatto che in quel paese lì non hanno il bidet sei obbligato secondo me pensare che una volta ho pisciato a Monte Carlo non per strada in un bagno senza bidet dovrei farci un video poi inizia la terza fase se il canale non è già fallito perché molti non sanno cosa vuol dire gestire un canale youtube se il tuo pubblico è in un altro fuso orario poveri illusi la terza fase è la fiera delle ovvietà gente che va in crisi perché l'ambasciata gli ha perso un foglio il razzismo la burocrazia eh perché anche all'estero c'è la burocrazia eh spiace la lingua da imparare no cioè raga qua non sanno l'inglese io sono sconvolto cose che io troverei anche scontate se vai a stare in qualsiasi altro paese che non sia l'Italia però un video mi ha sconvolto talmente tanto che me lo ricordo ancora siete seduti se non siete seduti sedetevi se siete già seduti alzatevi e risedetevi siete pronti anche in Giappone i treni arrivano in ritardo ora che vi ho rovinato l'infanzia possiamo continuare a questo punto arrivano i colpi di scena con tempistiche degne di una telenovela argentina trovano l'amore proprio mentre il visto è in scadenza che coincidenza pure a me è scaduto il passaporto ma non ho rimorchiato nessuno probabilmente non ci avrò creduto abbastanza o forse iniziare un discorso con uno sconosciuto con ciao io ho il passaporto vuoi sposarmi per avere la cittadinanza non è proprio poetico lo riconosco è che io sono troppo sincero altri di questi youtuber invece purtroppo vengono espulsi intanto che si attaccano ai diviti di sosta perché l'Italia per questi soggetti è tipo l'Afghanistan andate a cercarli questi youtuber ci sono dei video molto divertenti a questo punto molti di questi youtuber costretti a rimpatriare sperano che i quattro follower che li seguono continueranno a seguirli anche se faranno i video della Dependance vista di scarica abusiva poi ci sono loro i furbacchioni questi quando vedono che si mette male iniziano a diventare patriotti del paese che hanno occupato scambiando i paesi del G7 per dei palazzoni popolari che tu dici vedi sta rinsavendo ma va là questi diventano i massimi esperti di Culonia e qualche tv nostrana li ospita pure e poi all'improvviso il miracolo quando diventano famosi e benestanti tornano tutti in Italia zan 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 con la madre di tutte le scuse eh ma adesso sono genitore non posso far crescere il mio figlio in Culonia voglio che impari l'italiano che bella frase da dire al paese che ti ha accolto e ti ha fatto diventare qualcuno io se fossi sindaco della Culonia sarei molto offeso insomma l'Italia è bella ma non ci vivrei almeno che non mi mantengano gli italiani stessi devo dire che a forza di seguirli mi hanno fatto passare la voglia di emigrare e mi è venuto in mente di fare questo podcast perché ultimamente ho la home di youtube piena di tutta questa gente che sta tornando in Italia non importa in che parte del mondo sono ma stanno rimpatriando tutti e guarda caso hanno canali molto grandi e sono molto famosi in Italia coincidenze? beh io non credo signora mia naturalmente sono stato volutamente ironico quindi se avete un parente che vive in Norvegia che è bravo bello è buono e saluta sempre il famoso cugino state calmi non offendetevi stavamo a parlare vi ringrazio per avermi ascoltato trovate tutti i link nel box informazioni potete iscrivervi mettere il mi piace fate un po' quello che volete il podcast finisce qui vi saluto e buon proseguimento